Eccoci, ci siamo. Buonasera cari amici, se ci date un feedback capiamo che siete anche voi in diretta, gentilmente, se qualcuno mi dà un feedback, vediamo un po', commenti, in diretta ci siamo, vedo dei cuoricini, non vedo ancora. Ecco qua un buonasera, benissimo, un buonasera, lo prendiamo come il primo buonasera della serata per dire buonasera a tutti. Siamo qua come associazione di farsi parola con i rappresentanti naturalmente che poi si uniranno a voi per i saluti, ma soprattutto abbiamo un graditissimo ospite che è Franco Copes, che molti di voi conoscono perché è venuto tante volte da noi in associazione a Padova, è un caro amico ormai da più di vent'anni penso, una persona molto dotata di particolari qualità, capace di mettersi in contatto con la vostra personalità e quindi aiutarvi nei vostri problemi ed è anche un esperto in astrologia. Allora, buonasera Franco, buonasera Ed, buonasera a tutti voi, buonasera Debora e a tua figlia. Bene, come stai Franco? Ma direi abbastanza bene, diciamo, è meglio dire non lamentiamoci. Ecco, e poi abbiamo nell'altro gruppo, nell'altro quadro che voi vedete, noi abbiamo la responsabile di farsi parola che è Debora, ecco la figlia, ciao Debora. Buonasera. Abbiamo la responsabile per i ragazzi del nostro gruppo che è Anna, ciao Anna. Buonasera a tutti. Come stai Anna? Molto bene. Tutto bene, aspettavamo anche Francesco, chissà che non arrivi, salutiamo anche la nostra Antonella che senz'altro ci sarà, sarà in diretta, come Evelina che è un'altra delle nostre collaboratrici del gruppo, ecco Antonella, eccola qua, eccomi, buonasera Edda, vediamo dov'è, eccola qui. Questa è Antonella che ci saluta. Ciao Antonella. Ecco. Ciao Antonella. Diciamo che il gruppo di Padova si ritrova ogni tanto, anche se è vero, lo diciamo in anteprima per non dare delle aspettative, non ce la sentiamo di fare la riunione che avremmo dovuto fare l'8 di gennaio, perché purtroppo noi abbiamo le famiglia con esperienze di Covid, io e mia figlia, Deborah con il figlio, per cui preferiamo rimanere nelle nostre dirette e ci troveremo in questo modo. Allora, questa sera gli auguri li facciamo dopo perché abbiamo piacere di chiudere l'anno insieme, ma la cosa più bella è avere un personaggio di tale portata, il nostro amico Franco. Franco si occupa da tanto tempo di questa sua attività non solo nei giornali locali, nelle televisioni locali, ed è un piacere quindi sapere questo perché lo inviteremo ancora. Ma ha pubblicato proprio questa mattina, anche per i suoi interessi specifici e così particolari, l'oroscopo questa mattina nel suo giornale, vero Franco? Sì, è uscito questa mattina sul giornale locale, diciamo, dove abito in provincia di Varese, è uscito l'oroscopo, le previsioni per il prossimo anno. Allora Franco, dal momento che l'ospite d'onore sei tu questa sera, che cosa farà? Io non sono un ospite d'onore, sono un amico che ha accettato l'invito delle persone con cui ho collaborato e collaboro da anni. E che noi ti siamo molto riconoscenti. Gli ospiti d'onore non esistono, esistono persone che si stimano e si rispettino da entrambi le parti. Ecco, allora guarda Franco, noi solamente ad aprile abbiamo già passato, siamo verso i 20 ospiti, già in diretta, ci sono alcune persone, altre se ne aggiungeranno, poi la nostra pagina poi la si vede inviterita, va a finire in YouTube, questo lo dico anche per i nuovi perché è una pagina che è aperta solamente da aprile. Sì, ma io sono fermamente convinto che se ne aggiungeranno altre dopo che pubblicheremo o avranno seguito questa nuova nostra trasmissione. Perfetto, allora Franco ci vuoi dire? Allora, se mi permetti io partirei con fare le previsioni per il segno dell'Ariete. Allora, fra le proposte che l'Ariete si aspetta da questo nuovo anno sarà il percorso sentimentale. Per molti Arieti che negli anni passati hanno avuto delle problematiche, il 2022 rappresenterà l'anno in cui saranno pronti a decidere per il proprio futuro. Devo dire però che gli Arieti, che sono delle persone molto tenaci e anche un po' permalose, devono valutare bene anche chi vive accanto a loro. Però, devo dire, il 2022 per l'Ariete sarà un anno fondamentale. Mentre nella professione molti Arieti hanno perso il lavoro negli anni passati e anche qui devo dire che da maggio in poi ci saranno delle novità importanti. Permettimi, Edda, di dire che io ho cercato di fare un oroscopo un po' positivo, anche se purtroppo non sarà così per tutti. Però io ho cercato e credo che i nostri ascoltatori e i nostri lettori lo apprezzino perché se apriamo il giornale e leggiamo solo cose brutte, almeno qualcosa di positivo, almeno per questo inizio anno, credo sia la cosa principale. Continuo col dire che per il percorso lavorativo dell'Ariete ci saranno delle novità, ma novità positive, qualche piccola vincita e da maggio in poi molti Arieti potranno decidere di o cambiare lavoro o addirittura di mettersi in proprio. Mentre invece per quanto riguarda la salute devo dire che l'Ariete deve valutare molto bene gli alti e bassi perché essendo un po' umorale l'Ariete ogni tanto va un po' in crisi. Non vedo allarmismi di nessun tipo. Ecco, volevo dirti Franco che subito è entrato proprio un Ariete che ha detto a meno male perché vuol dire che le cose finora non erano andate bene ed è precisamente la nostra cara Anna. Tu pensa, io ti interrompo ogni tanto anche perché... Tu interrompi quando vuoi e mi fa piacere sentire anche i commenti dei nostri ascoltatori. Ecco, allora guarda questa cara amica Anna è proprio di Napoli, abita vicino dove ho la casa io ed ha anche lei un'associazione perché qui c'è gente di tutta Italia, non c'è solamente del gruppo di Padova. Allora posso permettermi di dire ad Anna che è stato un anno fondamentale per Anna dove ci sono state delle problematiche ma Anna in questo momento deve avere più fiducia in se stessa e diciamo buttare fuori quel suo io che c'è perché io percepisco che questa Anna abbia delle doti particolari. L'hai detto e hai anche centrato Anna quest'anno ha avuto tanti problemi ma è diventata anche nonna e ripeto ha fondato un'associazione proprio sua dal momento... Ha avuto anche un brutto periodo devo dire ma è sempre stata determinata e è sempre riuscita nei suoi intenti e oggi come oggi è una persona tranquilla ma non completamente felice. Guarda io ti ringrazio molto perché per Anna proprio ci tenevo e penso che lei vero Anna vuoi rispondere vuoi chiedere qualcosa perché Anna è veramente ripeto un soggetto a sé è la nonna della bambina dell'amore Deborah quella di cui vi ho parlato tante volte. Sì 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 ecco e allora vediamo un pochino che cosa succede grazie dice Anna dice grazie allora possiamo anche andare avanti sì sì grazie mi serviva dice Anna per cui andiamo pure avanti allora passiamo al segno del toro no? Io e Anna è Franco parla bene del toro allora per voi del toro che avete avuto un ciclo abbastanza particolare siete usciti da due anni piuttosto travagliati no? dove in questi due anni non non sapevate nemmeno voi dove voler andare oggi come oggi e questo 2022 sarà l'anno in cui avrete le opportunità che vi sono mancate fino a oggi. eh a volte eh ascoltare eh ascoltare e qui mi devo dirlo in questi termini ascoltare più i genitori e non fare sempre di testa vostra potrebbe essere di aiuto ma questo non perché c'è la figlia di Deborah no ma è proprio in generale perché il toro tende a essere così. ci saranno delle grosse soddisfazioni e se nel passato l'amore non vi ha dato quella sicurezza e quella voglia di essere felici il duemila e ventidue sarà un anno fondamentale ma dovete avere il cuore in mano ma per voi stessi e non per gli altri. eh questo è una cosa eh veramente eh positiva mentre invece devo devo aggiungere che in campo professionale per molti toro avranno la soddisfazione di vedersi eh proporre qualcosa di nuovo. molti giovani e qui parliamo in sostanza della gioventù che si trova nelle grosse difficoltà il duemila e ventidue vi porterà ad avere delle grosse eh soddisfazioni per molti del toro potrebbe essere anche la voglia di eh come posso dire di mettere qualcosa in proprio però è un qualcosa che vi possa aiutare a crescere. alti e alti e alti e alti e alti per quanto riguarda la salute. Io per quanto riguarda la salute cerco sempre di eh lasciar correre perché non 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 mi sembra giusto buttare acqua sul fuoco ecco mettiamolo in questi termini. Perfetto. Quindi allora grazie. Franco voglio dire che qui non solo ci sono ci sono dei tori ma c'erano molti arieti i quali si sono veramente ritrovati in quello che tu dicevi e che ringraziano. Guarda un po' l'ariete che che segno sarebbe secondo te anche il toro dalle immagini? Allora direi che ascolti sono allora l'ariete è un è un segno fondamentale eh anche perché è è l'inizio del del dello zodiaco che poi qualcuno lo reputa eh uno degli ultimi però l'ariete è sempre stato determinato costante ma lì qui possiamo quando vorrai o che cosa si potrebbe fare una una trasmissione facendo la diciamo le caratteristiche di ogni segno allora facciamo franco così dal momento che questa sera è già lunga per vedere ogni segno e a vedere loro quando vorrai e se vi farà piacere potremo fare una trasmissione parlando solo esclusivamente delle caratteristiche del segno diciamo i colori il fiore la gemma quello che può essere e le affinità con gli altri segni dello zodiaco. Beh allora franco noi possiamo partire da gennaio se tu te la senti perché io l'essenziale che mi venga detto in anticipo io non ho problemi a fare la diretta come stiamo facendo ora. Anche quest'orario anche quest'orario e lo facciamo nel giorno che tu preferisci ed entriamo io ripeto non ci sono assolutamente problemi adesso visto che sono bravo a entrare con la tecnologia vediamo di farcela. Grazie franco tu sei un tesoro allora andiamo avanti passo al segno dei gemelli che anche qui diciamo eh è un segno doppio eh molti gemelli eh sarebbe bellissimo una diretta sui segni dicono eh è un toro ecco benissimo allora per quanto riguarda i gemelli i primi mesi dell'anno saranno un po' così così ma saranno contradditori perché eh fino a ieri voi gemelli siete stati un po' contradditori in tutto questo duemilaventidue vi porterà ad avere delle grosse eh soddisfazioni che che non avete avuto in questi due anni passati e sappiamo quello che abbiamo passato un po' tutti il essere stati chiusi in casa il non poter fare quello che volevamo no mentre invece quest'anno e eh anche se le problematiche ci saranno molti gemelli riusciranno in campo sentimentale a decidere cosa vorranno fare molti matrimoni e però devo anche dire alcune separazioni perché le separazioni fanno parte del quotidiano sotto vari aspetti però molti e ripeto molti gemelli finalmente coroneranno il loro sogno d'amore e anche molti gemelli devo dire che hanno avuto la possibilità di acquistare casa di fare cose nuove o di non so valutarsi ancora di più e rafforzare il rapporto con la persona amata. C'è qualche gemelli che ci vuole Francesco abbiamo proprio comprato casa io premetto che io non ricordo i segni cioè perché non non è però io credo che eh se lo leggete poi eh quello che sto dicendo mentre per quanto riguarda il lavoro per voi gemelli valutate bene perché eh negli anni passati vi sono stati fatte delle proposte e sono ancora dalide perché per alcuni gemelli ci potrebbe essere un cambio rotta nel senso che potrebbero avere un aumento di stipendio ma anche un aumento di grado no dove ci saranno delle opportunità ma mentre altri gemelli potrebbero vedere eh arrivare il loro sogno come ho detto per il toro di fare qualcosa di proprio di privato quindi mettere forse anche anche un'azienda per il journée. Also questo giuramento di�了 un'agenzia un'agenzia un'associazione un qualcosa che dia aiuto a chi ha bisogno di aiuto. Perfetto. Allora questo gemelli me lo prendo e lo tengo tutto per me e per la mia associazione. Per quanto riguarda la salute devo dire che ehm E qui è un po' per le donne problematiche a livello donna e problematiche a livello uomo, però risolvibili. Perfetto. Allora possiamo, c'è qualche gemelli oltre che Francesco? C'è qualcuno dei gemelli a parte Francesco, giusto? Sì, non vedo altri che si siano fatti. Allora, passerei al segno del cancro se tu sei d'accordo, ma se tu vuoi farmi domande non ci sono problemi. Grazie, grazie. Andiamo pure avanti con questo. Allora, per quanto riguarda il cancro, in amore vi aspetta un anno di armonia, di serenità e di felicità. Molti cancro potranno finalmente arrivare a volere un figlio, no? Perché per molti cancro il 2020 e il 2021 sono stati anni particolari. Questo 2022, che dovremmo dire doveva essere e doveva proprio essere l'anno della rinascita, mi sa che comincia un po' in sordina. Però speriamo che da noi, in tutto il mondo, questa pandemia scompaia e ci riporti agli abbracci, al poter rivedere le persone a cui siamo veramente affezionati o viviamo serenamente. Comunque, per il cancro, devo dire, in amore devono essere sempre se stessi. E molti hanno festeggiato il matrimonio perché ci sono stati dei matrimoni a settembre-ottobre, mentre invece, ripeto, saranno sulla via di volere un figlio. Ottimo invece il periodo per voi del cancro per valutare proposte di lavoro. Mentre, e qui lo voglio sottolineare, molti giovani del cancro si vedranno offrire delle opportunità. E devo sgridare un po' i giovani che sotto vari aspetti hanno voluto smettere di studiare. Assolutamente no, continuate a studiare perché per molti lo studio è un qualcosa che può dare fiducia poi per il vostro futuro. Per quanto riguarda la salute, devo dire che non ci sono allarmismi, i malanni di stagione. E va bene così. Allora, sappi, ti voglio dire innanzitutto che ci sono delle persone che tu conosci. C'è la nostra amica Lidia, metafonista di Cattolica. C'è la... ci sono altre persone che tu conosci, persone che vengono da Bologna, dal sud e altri. E invece di cancro c'è una carissima amica qui della nostra associazione padovana. E vorrei che tu entrassi un po' di più perché il suo anno è stato ed è tuttora molto difficile. E questa è la nostra cara... Deborah la conosce bene... E la nostra cara Katia. Allora, ho una sensazione un po'. È una persona che ha avuto il 2021 piuttosto problematico, dove ha avuto delle grosse problematiche a livello personale e dove è andata in crisi abbastanza spesso. Però è anche una persona che deve avere più fiducia nelle sue capacità e nel suo modo di porsi. Parliamoci chiaro, Edda, tu mi stai dicendo un nome. Io non ho un viso o una data da poter fare. Però da quello che percepisco e dal tuo modo di dirmi la cosa, sento che questa persona si è affidata moltissimo a te per poterla aiutare a essere quella che è, a vivere una vita più serena e più tranquilla di quella che ha vissuto fino a ieri. Io la vedo in questo modo. Problemi con i figli? Problemi in famiglia, problemi col tutto. È una persona che si è chiusa troppo in se stessa e non vuole far soffrire gli altri, ma soffre lei stessa. Infatti, ed è proprio vero questo. Allora, cosa diciamo alla nostra Katia? Che sarà un anno... Ma direi, essendo un cancro, mi hai detto, giusto? Sì. Devi dirle di essere molto più forte e di non aver paura di dire quello che lei veramente sente dentro. Cioè, perché io la vedo sempre sofferente. Cioè, lei appare in un modo, mentre interiormente è completamente diversa. Vuole essere forte fuori, ma interna non è così. Soffre, ma manda giù. Per rispetto alla famiglia, io adesso leggo È vero, grazie. Quindi io penso che questa persona debba solo aver fiducia in se stessa. Poi magari col tempo possiamo sentire, parlare e posso magari dirle altre cose. Benissimo, benissimo. Ci parliamo allora più avanti. Possiamo un attimo solo guardare la nostra Mara, che anche lei è responsabile di un altro grosso gruppo ed è una persona che conosciamo da tanto tempo, la conoscerai anche tu. Io sono Toro e vorrei sapere cosa significa che non vuole buttare acqua sul fuoco. Scusa, scusa, scusa. C'è un messaggio qui di Mara? Sì, è questa. Ok, e che mi dice vorrei sapere qualcosa, buttare acqua sul fuoco, cosa vuol dire. Io vorrei far capire a Mara che purtroppo per quanto riguarda la salute io non sono medico, ma io percepisco solo delle sensazioni. Per poter parlare di quello che è. In questo caso io ho detto non buttare acqua sul fuoco perché quando una persona è ammalata si sente proprio depressa, demotivata, eccetera. Però delle volte le persone possono esagerare e quindi buttare acqua sul fuoco vuol dire nel senso che se uno ha un po' di mal di testa, adesso non è il caso di Mara, però uno ha un po' di mal di testa fa un po' le tragedie. Posso permettermi di dire a Mara che io quando non sto bene io li devo avere tutti al mio capezzale. Cioè, ma ho solo magari un mal di testa, capito? E quindi è come un po' buttare acqua sul fuoco e dire sto morendo, sto morendo, però non è così. Però io l'ho detto in questi modi e non volevo toccare la suscitabilità di nessuno. No, no, ma Mara è una persona intelligente, brava e anche molto nota. E però lei mi dice anche se è possibile vorrei chiarire sulla salute. Io, ripeto, io le uniche cose che posso fare, Mara, è di poterti aiutare o dare dei consigli. Però sono consigli che poi sarà solo il medico che potrà darti delle conferme. Certo. Qui c'è questa signora che dice mi conoscete poco, invece no, Gloria. Noi ti conosciamo da tempo e sappiamo chi sei anche attraverso un'amica comune. E lei dice appunto io sono ariete. Ecco, il tuo segno l'avrai sentito prima che è già passato. Andiamo avanti, allora. Grazie. Andiamo al segno del leone. Per quanto riguarda voi sarà un segno che avrà la predisposizione istintiva all'amore. Quindi, Mara, quando vorrai parlerai con Edda possiamo entrare in un discorso diverso. Per quanto riguarda il leone, come stavo dicendo, la predisposizione sarà l'amore per il leone. molti leoni avranno finalmente e finalmente l'amore della propria vita. Quindi le persone già collaudate, mentre le persone che stanno vivendo i primi amori come i giovani e come le persone che si sono appena conosciute, vivranno un 2022 con molta, molta più tranquillità e serenità. Buono il periodo estivo, mentre invece autunno e inverno valuteranno molto bene se cambiare casa o addirittura allargare la casa, avere qualche figlio. Mentre per quanto riguarda il lavoro, il leone, si prospetta un anno con entrate abbastanza positive. Visto che il 2021 è stato un anno un po' incerto a livello economico, il 2022 per molti voi del leone si vedranno avere delle piccole risorse. Per molti leoni vedo addirittura un rimborso da parte di qualche ente. Ho capito. Per quanto riguarda la salute devo dire che sarà buona e anche qui devo aggiungere Ah, forse è vero mio figlio del leone. È la tua amica Lidia. Devo dire, per quanto riguarda la salute ci saranno alti e bassi ma i malanni di stagione. Facciamo così. Ma sentimi Franco, allora, è un leone con ascendente leone? Allora, è un personaggio molto problematico nel senso che il leone tende a essere a dominare, no? E avendo il leone ascendente leone vuol dire che il leone è anche molto dolce molto generoso molto propenso a molto a fare molto del bene ma nello stesso tempo il leone tende a decidere lui quello che voler fare sia per lui che per gli altri ma questo un po' in generale. Benissimo. Allora, devo dire per coloro che dicono io sono in ritardo non vi preoccupate perché non solo lo potete guardare indifferita ma dato che è una trasmissione questa diciamo che tocca un pochino tutti voi, ripeto, questa sera la trovate anche in YouTube sempre sul canale Farsi Parola. Andiamo pure avanti. dopo il leone cosa dici? Arriva la Vergine no? Sì. Allora, per molti della Vergine non sarà un anno facile ma non tanto e qui parlo in campo sentimentale non tanto facile per le problematiche che ci possono essere in un rapporto ma perché in questi ultimi anni la Vergine ha sempre cercato di fare sempre di testa sua mentre consiglio consiglio alla Vergine per questo 2022 di avere anche un po' fiducia nella persona con cui vive perché in questo momento è il periodo positivo sotto molti aspetti molte persone della Vergine vedranno rafforzare il rapporto molte potranno anche arrivare a una saturazione e decidere ben altro buono l'andamento con i figli dove per molti della Vergine potrebbero esserci delle novità un figlio che si sposa un figlio che potrebbe avere un figlio cioè ci sono molte problematiche positive in campo lavorativo il panorama per voi della Vergine sarà un panorama in salita nel senso che finalmente riuscirete e ripeto molti Vergine ad acquistare casa o risistemare casa o addirittura cercare di cambiare l'arredamento dove però ripeto ci saranno anche delle entrate extra mentre per molti della Vergine ci potrebbe essere in arrivo una piccola eredità caspita c'è qualcuno della Vergine io direi solo alti e bassi per non andare oltre benissimo c'è qualcuno della Vergine qui che abbia che ti voglia far riconoscere che voglia aggiungere qualcosa o chiedere qualcosa altrimenti andiamo avanti io ho sempre saputo che la Vergine è un segno problematico vero? è un segno problematico perché vuole essere problematico Edda però dopo parliamoci è chiaro quello che stiamo facendo ora è un po' un quadro generale certo quindi sai mentre se invece hai di fronte non so Deborah te Anna cioè si entra nel personale quindi è un po' è un po' diversa la cosa questo che noi stiamo facendo è un po' un quadro generale perché quante persone ci sono della bilancia quante persone ci sono dell'ariete quante persone ci sono del toro del capricorno cioè un po' tutti quindi io la vedo in questo modo benissimo questo è è il figlio di Antonella mio figlio Alberto è vergine benissimo però Alberto mi sembra appunto che sia un ragazzo anche lui che abbia già preso la sua strada come ho detto ci saranno molte 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 persone della vergine ecco per esempio questo signore mi dice sì sì io sono della vergine ma purtroppo sentimentalmente sono vedovo io ho anche detto che ci saranno delle opportunità cioè quindi purtroppo anche qui cioè non posso dire ai vedovi o che cosa cioè io ho detto delle opportunità quindi le opportunità sono anche delle persone che in questo momento sono sole certo o sbaglio? come no come no certamente allora passerei col segno della bilancia sì 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 allora per voi dalla bilancia anche qui un segno doppio ci vuole ottimismo ottimismo e ottimismo anche perché finalmente voi dalla bilancia riuscirete a essere vedo delle scritte sotto ma tu le stai leggendo il signore di prima diceva che vedo diceva magari un nipotino ecco però l'ho anche detto poco fa quindi allora passo al segno della bilancia che devo dire l'ottimismo per voi della bilancia essendo un segno doppio anche voi sarà il vostro diciamo punto di forza per tutto questo 2022 molti voi dalla bilancia avete avuto delle problematiche avete avuto delle persone che sono venute a mancare però molti voi dalla bilancia vi aspettate un 2022 ma credo un po' tutti un 2022 che vi porti a essere più solari più sotto vari aspetti sarà un anno positivo e devo dire anche qui molte storie nasceranno molte storie finiranno ma sarà l'anno fondamentale per i giovani a livello lavorativo devo dire che dovrete ricominciare a rimboccarvi le maniche anche perché per molti della bilancia è stato un anno dove le entrate non sono state positive e questo 2022 vi porta a ottenere qualcosa in più in qualsiasi campo decidiate di fare positivo il periodo primaverile e il periodo estivo un po' meno l'autunno bene il periodo invernale anche qui alti e bassi per la salute sai fra questi c'è anche la nostra amica Giancarla Padovan che tu conosci molto bene sempre un'amica cara come vedi vengono anche da molto lontano le amicizie qui nel nostro gruppo non sono solo locali poi ho un amico un amico che mi pare del pugliese ma del sud sud che fa sempre vedere dei bellissimi campi di olivi una persona una persona molto spirituale molto colta che è dell'Ariete quindi ti ha ascoltato prima e voleva appunto sapere fra bilancia e l'Ariete che relazione c'è allora tra bilancia e l'Ariete è una diciamo che dovrebbe vincere sempre la bilancia nel senso che la bilancia sa ponderare perché Ariete o bilancia Ariete tendono a però devo dire che quando si si amalgamano se permetti di dire questa parola la che brutta persona è arrivata scusate devo dire che per quanto riguarda la bilancia è una bilancia che deve essere sempre se stessa mentre invece è un connobbio positivo sotto vari aspetti benissimo quindi bilancia Ariete e ci risponde appunto super grazie andiamo avanti e tra andiamo avanti e vediamo poi di pure grazie per il super grazie io io passerei al segno verranno verranno ancora ancora più rafforzate ci saranno delle prospettive e specialmente in primavera molti scorpioncini che si sono fidanzati da qualche tempo potranno programmare il loro matrimonio ci sarà un anno fondamentale per i giovani del del segno mentre invece le problematiche familiari potrebbero essere per le persone già collaudate da molto tempo bene il successo a livello professionale e anche qui devo dire entrate economiche ben diverse dal solito dove molti si vedranno arrivare anche soldi extra o qualche pensiero o qualche regalo da parenti che non vedevano da tempo anche qui aggiungo solo per quanto riguarda la salute sarà la vostra vitalità ad avere una certa solidarietà in campo della salute bene diciamo ecco continuiamo a dire che siccome qui ci sono anche alcune persone che non hanno mai visto nella nostra pagina una trasmissione così bella e giocosa che noi vogliamo proprio dare una ventata di aria buona con un caro amico all'anno che verrà sarà un anno fondamentale non si può mandare via c'è una persona di troppo meglio le due ragazze perché lui non è un personaggio che spica perché non si collega con un altro cellulare adesso mi collego ecco prendi la la cosa che così vediamo come senza che tu sia lì in mezzo ecco l'abbiamo eliminato franco almeno tra donne le tre donne belle va bene così lui non mi serve posso passare al segno del sagittario benissimo vediamo il sagittario sì allora diciamo che il sagittario potrà proseguire questo 2022 come ha proseguito gli anni passati devo dire che per il sagittario non ci sono grosse problematiche e qui devo aggiungere che il sagittario è sempre stato un segno dove è riuscito in tutti questi anni a essere coerente con se stesso e dove ha sempre deciso di essere positivo sotto tutti gli aspetti bene i colpi di fulmine che potranno nascere in questo periodo mentre molto bene anche le persone che vorranno addirittura convolare o a giuste notte giuste nozze o a convivenza la nostra gloria chiede appunto e fra ariete e sagittario allora diciamo che di solito in questo caso è il la riete che prevale sul sagittario però devo dire che quando questi due segni si incontrano possono dare molto ma a volte possono anche togliere molto però magari litigano e due minuti dopo sono ancora come prima bene questa signora del sagittario è una persona molto provata Caterina dice io sono del sagittario non è stato buon anno qui devo dire che per quanto riguarda così detta in questo modo e dalla tua voce è una persona che non ha avuto un anno un 2020 e un 2021 facile no? ha avuto delle grosse problematiche verso aprile maggio del 2021 mentre invece in questo momento ha bisogno di sentirsi protetta ma protetta probabilmente dal suo stato dal suo stato d'animo infatti anche quest'altra mio figlio è del sagittario ragione per allora qui devo dire che qui entriamo Edda devo essere entriamo in un concetto che non 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 avendo un elemento o la la persona cioè posso semplicemente dire quello che percepisco capisci cioè il figlio del sagittario è un un ragazzo che sa il fatto suo ma che ha bisogno di essere spronato e ci sono dei momenti in cui questo ragazzo potrebbe volere qualcosa di più ma non riesce a ottenere quello che vuole ho capito la nostra gloria la nostra gloria di prima che chiedeva appunto fra ariete e sagittario non c'è speranza ma non è vero non c'è speranza bisogna anche far capire alle persone che si riesce a ottenere qualcosa di positivo capito certo certo e sai chi è anche un sagittario chi lo direbbe mai devo cercare eccolo qua la nostra lidia anch'io sono un sagittario dipende poi dobbiamo anche fare un discorso di questo tipo l'uomo sagittario in un modo la donna sagittario e in un altro quindi anch'io sono sagittario se è un uomo o una donna questa è una donna è la lidia allora lidia possiamo dire da marzo ad agosto questa sagittario lidia come hai detto tu ha avuto dei problemi familiari ma io penso che i problemi familiari li abbiano allora scusa un attimo Francesco e Deborah avete il ecco Francesco ha il microfono bloccato eh sì perché se no ci sono le interferenze sì ah ho capito va bene allora niente ha avuto come dici chiedo se due sagittari possono andare d'accordo allora due sagittari possono andare d'accordo se riescono ad amalgamare bene le loro problematiche e devono essere sinceri con se stessi è un buon connubio sagittario con sagittario poi bisognerebbe capire i loro ascendenti però sono positivi se riescono a dialogare bene loro due noi abbiamo Cristian e Davide che sono del sagittario come noi abbiamo i due nostri ragazzi due maschietti Cristian e Davide ecco quindi sagittario beh diciamo che ci aspettiamo parecchio da loro eh comunque vanno d'accordo non c'è niente allora hai visto Franco che il nostro Francesco eh ma è una brutta presenza è una brutta negativa ma no ma Edda guarda che io l'ho sempre preso in giro quel ragazzo l'ho chiamato ragazzo eh grazie grazie ragazzo però sono affezionato ma più affezionato a Deborah ho capito qui adesso andiamo a previsioni ecco ok lasciamo perdere il resto no che per voi del capricorno ci sarà un anno dove finalmente potrete dire basta a a tutto quello che avete subito in questi anni perché molti capricorni si sono trovati a dover affrontare delle situazioni sentimentali dove per il bene o della famiglia o dei figli hanno resistito e sono rimasti in famiglia per molti del capricorno il duemilaventidue potrebbe essere un anno dove possono esserci delle delle belle novità ma anche dei delle separazioni mentre molto bene è l'anno per tutti i ragazzi del capricorno i ragazzi giovani dove si vedranno arrivare delle cotterelle oppure delle delle storie che potrebbero durare nel coltempo mentre sarà il fattore lavorativo che il capricorno porterà avanti perché il capricorno in campo professionale è uno dei segni che sarà fortunato nel 2022 no? sono tutti segni fortunati però sono già due o tre anni che il capricorno poi io dopo ho ricevuto delle telefonate che mi hanno detto ah però non sono stato fortunato anch'io sono capricorno ma non è stato poi un anno tanto fortunato le mie problematiche i miei problemi le ho avuti anch'io però questo è un po' in generale mentre invece per quanto riguarda la professione molti capricorno si vedranno addirittura arrivare la possibilità chi ha già raggiunto l'età per un pensionato per pensionamento o andare in pensione entro la fine di questo 22 mentre molti avranno fretta di concludere i lavori per la sistemazione della propria casa e per gli anziani? come? non ho capito a età e per gli anziani cosa c'è? no allora scusa anziano non esiste non c'è nessuno siamo tutti nella stessa barca chi ha 20 anni chi ha 30 anni chi ne ha 50 chi ne ha 90 io conoscevo una signora che purtroppo è venuta a mancare 92 anni ed era un capricorno che io guarda ho adorato e ho amato perché aveva e voleva la vita come se fosse una ragazza giovane quindi noi che siamo vecchi che se vogliamo metterla in questi termini cioè non è vero abbiamo solo tanta vitalità e tanta voglia di dare agli altri dimmi se sbaglio sì sì senz'altro anche di ricevere qualcosa insomma però vedi noi siamo abituati a dare a dare a dare e ricevere poco ecco questo confermo confermo no ma va bene stiamo appunto facendo questo bellissimo discorso giocoso e a me piace tanto andiamo avanti allora andiamo avanti con l'acquario no saranno i primi mesi dell'anno a portare l'acquario in vetta alle classifiche perché per molti acquari finalmente potranno avere la loro soddisfazione sotto tutti 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 gli aspetti bene diciamo le persone che sono sposate da anni bene le nuove coppie e per molti 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 single ci saranno in arrivo delle grosse soddisfazioni mentre in campo professionale devo dire che l'acquario in questi ultimi tempi si è deciso a fare di tutto pur di rimanere inattivo e avranno modo di sviluppare molto le loro creatività buono l'andamento per chi opera nel settore pubblicitario nella pittura e nel giornalismo bene anche in generale le altre persone che vogliono fare del proprio lavoro la propria vita definitiva alti e bassi in campus della salute infatti questa signora dell'acquario penso che quest'anno più di quelle che gli sono capitate non gliene potevano capitare ha perso un figlio malata di cancro il covid lei e il marito insomma ma sai che cosa qui dobbiamo guarda finiamo con i pesci e poi ti dico no ma diciamo che speriamo in un in un acquario migliore così esatto sì sì ma diciamo che ripeto sono dodici segni dodici segni completamente diversi uno dall'altro che però se vogliamo vedere sono dodici segni che si amalgamano tutti e dodici uguali perché per tutti i dodici segni noi possiamo solo dire che sia un anno super positivo e che il bene possa prevalere su quello che sta succedendo a livello mondiale perfetto e e poi dopo il l'acquario abbiamo i pesci i pesci che è l'ultimo segno dello zodiaco allora diciamo che per molti pesci inizierete l'anno anche qui un segno doppio con un atteggiamento non consone al vostro modo di porvi quindi avrete modo di non essere proprio propensi a ricevere l'affetto delle persone perché perché venite da un periodo in cui non vi hanno capito non vi vogliono capire ma dopo i primi forse 15-20 giorni di gennaio per voi molti pesciolini le cose potranno cambiare e ci saranno delle grosse grosse opportunità per rivedere degli amori che potevano essere conclusi invece si rafforzeranno bene le copie collaudate e qui devo dire molto bene le persone di una certa età mentre per quanto riguarda il lavoro avrete molte responsabilità dove molti voi pesci non credevate nelle vostre capacità mentre ci saranno per molti e ripeto molti giovani delle novità molto positive continuate a studiare mentre invece per molte persone che hanno hanno avuto diciamo il matrimonio a ottobre settembre maggio il 2022 porterà finalmente l'arrivo di un bambino addirittura beh questa è la nostra Raffaella che non credo che aspetti un bambino però io auguro però ripeto un po' generalizzato certo c'è una persona che mi chiede come può andare pesci con pesci allora qui pesci con pesci diciamo navigano bene nel senso che devono essere pronti sempre a botta e risposta però nello stesso tempo è un connubio positivo e anche qui devo sempre dire che bisognerebbe valutare molto bene l'ascendente o l'affinità con gli altri segni quindi li guarderemo come abbiamo detto all'inizio agli amici che erano in diretta diciamo che il nostro caro amico Franco ci ha detto che se vogliamo lui sarà disponibile sempre come è il suo solito quando deciderete quando volete possiamo fare una diretta con le affinità o con le caratteristiche di ogni segno di ogni segno benissimo posso fare una domanda il segno più fortunato per il 2022 sono tutti i 12 segni sono tutti i 12 segni così Deborah c'è una classifica c'è una classifica ma è una classifica che non è corretta capisci perché ognuno di noi ognuno di noi vuole il suo segno positivo per tutto l'anno capito perché se io ti dicessi capricorno acquario pesci gemelli toro cioè farei felice chi mi sta ascoltando mentre invece sono i 12 segni che rappresentano il nostro percorso di vita capisci perché ripeto tua figlia è un toro Edda è un capricorno io sono un capricorno io i vostri due non li voglio neanche sapere che non mi interessano no? hai capito sarebbe inopportuno e io la vedo invece che dobbiamo dire che sono i 12 segni positivi perché tutto vogliamo positività ho sbaglio hai ragione il vostro mi permetto di dire il vostro sogno si è realizzato siete due persone felici non vedo hai scelto una persona che lasciamo perdere no? ma sto scherzando però vedi dopo molte traversie siete arrivati a una conclusione oggi come oggi avete formato una famiglia allargata allora quello che diciamo a coloro che arrivano adesso e stanno chiedendo gli arretrati che questa diretta che noi abbiamo appena fatto e quasi terminato anzi terminato nell'esposizione del nostro carissimo amico che tutti dicono un bravissimo astrologo è molto interessante diciamo che bravissimo dice anche simpatico simpatico di te Franco hai capito? infatti tu hai sempre tenuto banco quando sei venuto da noi ecco diciamo che però tutti troveranno riascoltando questa diretta che rimane sia qui sia la trovate in youtube fra un'oretta vero Deborah e la potete cercare sempre nel canale Farsi Parola poi ripeto come ci ha detto il nostro carissimo Franco sarà disponibile nonostante i suoi tantissimi impegni locali ad essere con noi indifferita dal momento che non lo possiamo avere a Padova anche diciamo durante questi mesi in cui come vedete siamo abbastanza bloccati basta che io lo sappia non ci sono Edda se tu me lo permetti io vorrei comunque ringraziarti di questo invito ringraziare Deborah ringraziare Francesco anche se non lo merita però ringraziarvi di questa opportunità devo dire che ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito in questo momento e un saluto un po' a tutti se me lo permetti anche un saluto a una persona che è stata per noi ed è per noi importante alla nostra Giulia e non c'è ma forse non non so se sa di questa diretta ma non sa io in in due anni l'ho sentita tre volte cioè è molto occupata evidentemente non non fa più parte della non non so insomma ci sono persone che vanno e persone che vengono qui e comunque la nostra amica Katia quella di prima dice ho problemi di linea se dovessi non riuscire a continuare a seguire sentino la registrazione augura edda i suoi ospiti a tutte le persone ecco è la signora di prima che appunto alla quale tu hai dato tanta speranza allora le persone comunque che sono qui alcuni ti conoscono e altri ti ripeto vengono da tutta Italia molti sono del sud perché una cosa che ti voglio dire edda quella signora di Napoli con le problematiche che se non sbaglio Ariete giusto sì ecco è una persona che va seguita e va aiutata sotto vari aspetti perché l'associazione che lei come la vostra e come quella di molti altri hanno bisogno di essere sostenute perché questa ragazza questa signora ha molto da dare ma avete molto da dare anche voi certo ma non per nulla noi non quello che abbiamo aperto anche come pagina che hanno voluto ecco io questo lo dico per i presenti se non li conoscono che il colonnello Francesco Deborah e Anna sono coloro che hanno messo in piedi questa pagina e l'hanno messa proprio perché diversamente non avremmo mai più potuto sentirci questa pagina altra parte viene sostenuta con i vostri ascolti in diretta in differita con le cose che pubblicate eccetera e io devo solamente ringraziare e ringrazio te Franco che da questo momento fai anche parte tu della nostra famiglia e ringrazio io a questo punto se me lo permetti auguro veramente a tutti coloro che ci hanno seguito che non ci hanno seguito un felice buon 2022 perché sia un anno veramente ricco di cose belle e che proprio ci porti un po' più di serenità ne abbiamo bisogno tutti quanti allora partiamo da Anna che è la responsabile dei giovani e che senz'altro vuole dire dopo salutiamo tutti quanti insieme per bene Franco per questa meravigliosa diretta che ci ha fatto ma vogliamo sentire Anna che è la responsabile dei giovani e che farà un invito anche ai suoi amici giovani della nostra associazione Anna sta per partire con l'Erasmus e andrà in Spagna perché studia lì allora vedi che ho detto una cosa giusta poco fa cioè io non sapevo fuori dalle scatole ecco ecco appunto Anna vuoi dire qualcosa ai tuoi amici e anche alle persone che già ti conoscono e che ti hanno visto certo io per il 2022 auguro a tutti di trovare sempre il coraggio di fare ciò che ci appassiona perché così riusciamo a vivere più sereni e di trovare il bello in tutto ciò che ci accade Anna tu sei meravigliosa e sei bella di tuo per cui il bello già lo trasmetti come la tua splendida vicina vestita di rosso eh Deborah cosa mi dici Deborah io volevo fare un augurio a tutti quanti volevo augurare ben tre cose tanta forza per affrontare il nuovo anno che non sarà facile e vi auguro tanto coraggio per non arrenderci mai e vi auguro tanta speranza per continuare e a credere che tutto passerà perciò auguro a tutti e alle vostre famiglie un felice anno nuovo grazie grazie Deborah sentiamo il nostro colonnello Francesco eccomi Edda scusate ritardo ma ero impegnato a nella nuova casa con i nuovi lavori per costruire questo grande sogno della nostra nuova famiglia parole io auguro il risveglio il risveglio dell'anima il risveglio dei cuori e il risveglio delle emozioni che sia un anno nuovo pieno di risvegli affinché tutti possiamo gioire e riprendere quella corsa che in qualche modo è stata stoppata da questi eventi e forse un po' dalla società che ci circonda perché opprime soprattutto i ragazzi e quindi auguro il risveglio a tutti quanti bella questa cosa ce lo auguriamo tutti perché come dicevo prima a Franco noi siamo partiti con questa pandemia occupandoci degli anziani e pensando che fossero il problema maggiore sì credo che ci siamo accorti scusami Edda credo che un augurio forse speciale a tutte le persone anziane a tutti i bambini che in questo momento sono negli ospedali e che stanno soffrendo questo brutto periodo un augurio di vero cuore permettimi di dire a tutti a tutti a tutti le parole di Francesco sono parole sagge 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 è la prima volta che lo sento saggio franco tu mi fai torto perché non avrei preso dei pilastri così a me vicino ma mi sa che se l'è se l'è preparata dice arrivo in ritardo ma mi devo preparare qualcosa di buono la mettiamo in questa maniera allora Francesco io ti ringrazio Antonella che sta guardando dice ti ringrazio franco sempre disponibile e gentilissimo ecco quindi anche lei che ti fa gli auguri di buon anno e noi li facciamo la nostra Antonella io la ringrazio ringrazio voi tutti e a te Edda veramente col cuore ti dico grazie di questa diretta e un abbraccio a tutti tranne che a uno allora io devo alla fine devo concludere tirando le fila e dicendo che ogni qualvolta ci incontriamo in questa pagina parliamo sempre di problematiche guardando senz'altro con ottimismo e soprattutto mai piangendoci addosso ma cercando di risolvere le problematiche più o meno lievi e diciamo che molte persone si sono inserite tanti uomini questo mi fa molto piacere questa sera abbiamo voluto e siamo stati in grado di dare con una persona straordinaria preparata simpatica di dare così uno sguardo giocoso a quello che ci aspetta e a quello che ancora stiamo passando siamo a metà di queste festività che per alcuni sono stati molto molto tristi in solitudine io stessa con la figlia con il covid sono stata chiusa da sola in casa come lo sono tuttora ma qui c'è tanta luce e c'è tanto risveglio come diceva Francesco e c'è un tanto volersi bene anche se alcuni dicono virtualmente no questa mano la si sente tangibile perché è una luce che viene dal cuore non è solamente quella degli alberelli ma viene dal profondo perché noi siamo luce e io auguro a tutti che questa luce arrivi che sia un anno speciale e un anno che porti un'illuminazione oltre che una svolta ne abbiamo effettivamente bisogno tu ci credi vero Franco a questo? sì ecco allora adesso concludi tu con i nostri ringraziamenti da parte di tutti quanti ma da te in particolare un arrivederci a presto più che un augurio e un arrivederci a presto anche di persona dove abbiamo bisogno di riprendere ad abbracciarsi proprio tutti tranne che uno tranne che uno di nuovo di nuovo grazie 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 buon anno grazie buon anno buon anno buon 2022 auguri Anna per il tuo viaggio auguri a voi cari amici grazie grazie auguri anche a lei a te alla tua famiglia per la salute e per tutto grazie di nuovo buona serata e buona cena a tutti quanti ricordate di mandarmi quando l'hai lo trovate su youtube tra un'ora c'è senza altro lo mandiamo anche a parte e lo mettiamo grazie benissimo grazie a tutti buona serata buona serata a tutti è natural grazie a tutti grazie a tutti